Buongiorno ragazzi, come state? Oggi giornata di Champions, oggi giornata di derby di Milano, oggi anche però giornata di maltempo, almeno all'erta meteo, quindi Emilia Romagna da me e dato che so che tanti di voi abitano bene o male nelle stesse zone, vi rivolgo questa domanda. Come sta procedendo? Va tutto bene qua? Piove in continuazione? Speriamo che la situazione non vada a peggiorare perché un po' di preoccupazione, devo dire la verità. Cioè, questa sera avremo il nome della prima finalista di Champions League, sarà una squadra italiana, sarà o Pioli o Simone Inzaghi, sarà o l'Inter che conferma la vittoria dell'andata o il Milan che compie una rimonta impressionante e difficilissima. Per la Juve invece bisogna aspettare ancora un po' giovedì, domani sarà giornata di vigilia, domani i ragazzi voleranno a Siviglia, domani ci sarà la conferenza stampa pre-partita, domani inizieremo a capire un po' di più quelle che saranno le indicazioni, quelli che saranno i giocatori che verranno poi schierati da Massimiliano Allegri in questa partita. Io vi ho già fatto la mia formazione pronostico, ve la voglio ripetere, secondo me giocheranno Scesni in porta, Danilo, Gatti e Bremer in difesa, Costice a sinistra, quadrato a destra, Locatelli, Rabiot, Fagioli, Di Maria e Milik in attacco, con Vlaovic e Chiesa che verranno utilizzati come vere e proprie armi a partita in corso. Questo è il mio pronostico di formazione, ma voglio sapere il vostro, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, poi ovviamente ci sono ancora allenamenti, rifiniture e anche c'è da valutare probabilmente le condizioni fisiche e atletiche di alcuni calciatori che magari non avranno recuperato al meglio, dato che comunque l'altro giorno con lo Spezia sono scesi in campo diversi titolari e non si è fatto quel turnover che invece tutti ci aspettavamo. Ragazzi invece ieri è stata anche giornata di tutti i teorici, ho visto che il video è andato già molto bene, se ancora non lo avete visto vi invito a passare sul canale di tutti i teorici perché l'ospite di questo mese è Sandro Sabatini, ho visto che siete stati molto molto contenti tra l'altro della chiacchierata che ne è uscita insieme a Sandrone e quindi vi ringrazio per tutti i complimenti ma soprattutto per le critiche costruttive perché come ben capite tutti i teorici è un progetto di difficile realizzazione e stiamo cercando sempre di migliorare puntata dopo puntata ma ci sono ovviamente delle difficoltà che purtroppo non dipendono nemmeno da noi però vi ringrazio ovviamente perché sentire le critiche costruttive secondo me è sempre un moto per cercare di migliorarsi e quindi grazie davvero. Volevo portare alla vostra mente questa cosa qui, lo so che i più nostalgici ora staranno versando una lacrimuccia dato che comunque un anno fa Di Bala lasciava la Juventus insieme a Giorgio Chiellini però io voglio andare un po' più nel dettaglio, questo è uno screen di un video che avevo pubblicato l'anno scorso, tra l'altro ve lo voglio far vedere anzi così, ve lo faccio vedere in questo modo quando ero ancora biondo quindi è meglio lasciarlo da parte questa cosa, torniamo in questa posizione e all'interno di questo video su Instagram e su Twitter postavo questa frase Io sono del 1992, voi del 1993, siete due di quelli a cui ho evoluto più bene nel recente passato, sogno di vedervi ancora uniti in bianco-nero per entrambi però ho fatto un ragionamento, il solo affetto non può essere la base del futuro alla Juventus Hashtag Di Bala, Hashtag Pogba e quindi questo era il discorso alla base, perché? Perché ovviamente stavamo parlando di due giocatori che hanno uno status, una nomea molto importante due calciatori che hanno fatto la differenza nella Juventus, hanno scritto pagine importantissime di storia della Juventus due giocatori che hanno trascinato anche la Juventus in finale di Champions League grazie alle proprie prestazioni, ai propri gol, agli assess, alle giocate, al temperamento tutto quello che ha portato poi a Berlino con Pogba e a Cardiff con Di Bala quindi sicuramente dei giocatori molto, molto, molto importanti e che mi hanno fatto innamorare proprio anche per via di questa vicinanza anagrafica e poi purtroppo il tempo che passa per me, tempo che passa per loro, giocatori che arrivano intorno alla Trentina quest'anno a festeggiare i 30 anni, entrambi i campioni del mondo tra l'altro, questa cosa è curiosa perché poi Di Bala quest'anno ha vinto il Mondiale Pogba l'aveva già vinto qualche anno fa però anche giocatori che sicuramente per via del nome, per via della carriera, per via dello status avevano e hanno richieste economiche elevate e quindi quando l'anno scorso si parlava del rinnovo di Di Bala c'era di interrogarsi ne vale la pena rinnovare Di Bala quando si parlava del ritorno di Pogba a Juventus ne vale la pena prendere Pogba? Attenzione, parlate con uno che Di Bala l'avrebbe rinnovato, lo ricorderete anzi, secondo me in questa stagione è mancato poi tante volte lo spunto di Di Bala e secondo me Vlaovic l'anno scorso si era trovato molto bene insieme a Di Bala e Morata si era creata quella sorta di intesa molto molto buona tra i te attaccanti leggevo una statistica l'altro giorno che ragazzi mi ha fatto rabbrividire perché Vlaovic in Serie A con la Juventus in una cinquantina di partite mi pare ha segnato 17 gol da quando è arrivato, 7 l'anno scorso e 10 quest'anno 7 nei 6 mesi che ha fatto da gennaio a giugno e 10 quest'anno in Serie A 17 gol sono anche il numero di reti che Vlaovic aveva segnato alla Fiorentina nella prima parte di stagione in 21 partite prima di arrivare alla Juventus che significa che 17 gol in 21 partite con la Fiorentina 17 gol in una cinquantina con la Juventus è ovvio trovare più difficoltà in una squadra come la Juve ma questi sono numeri veramente complicati da digerire, da mandare giù e qui bisognerebbe aprire un mondo legato alla valorizzazione di Vlaovic attraverso l'impianto di gioco che viene effettuato dalla Juventus ma ne abbiamo già parlato in più di un'occasione quindi non vorrei tornare a ripetermi vorrei più che altro pensare a quei calciatori lì perché sono andato a vedermi quel video di marzo dell'anno scorso e dicevo, eh ragazzi, l'affetto, l'amore a me viene da dire rinnoviamo di bala perché gli voglio bene mi piacerebbe rivedere Pogba perché gli voglio bene però poi si parla di 7, 8, 9, 10 milioni di euro all'anno magari con decreto crescita, quindi lo sgravo fiscale quindi qualcosina meno però c'è quella roba lì cioè mi fa quasi impressione oggi parlare di rinnovi di contratto a 7, 8, 9, 10 milioni di euro per la Juventus perché poi in un anno cambia tutto e in quest'anno è cambiato più di tutto in assoluto e la Juventus è ritrovata, proiettata in una situazione molto difficile che passerà per forza di cose dalle auli dei tribunali e sfocerà in un 22 maggio veramente di fuoco per la Juventus se vedremo quello che accadrà inizieremo ad avere un po' il quadro chiaro della situazione quindi io avrei sì rinnovato di bala avrei pure preso Pogba e addirittura all'epoca dicevo sì però per prendere Pogba le condizioni devono essere la permanenza di chiesa e di Delit Delit che poi invece ha salutato e l'accessione di Rabiot perché Pogba allora deve andare a prendere quello spazio salariale se rinnovi pure di bala col seno di poi meno male meno male che Rabiot è rimasto e attenzione non perché la Juventus lo volesse tenere avesse in mente di tenerlo 100% blindato anzi no la Juventus l'aveva già venduto trattato aveva aperto l'accessione con lo United poi non si è trovato l'accordo tra il giocatore e il Manchester tra l'entourage del giocatore e la mamma e il Manchester proprio in questi giorni tra l'altro è tornato fuori l'idea che Rabiot possa casarsi al Manchester United da parametro zero dato che il contratto è in scadenza e con la Juventus le trattative in questo momento sono arenate perché non si sa dove giocherà la Juventus quindi idee che cambiano da un anno all'altro per forza di cose però poi oggi con l'infortunio di Pogba ti viene da domandarti no ma di bala perché non è stato rinnovato e allo stesso tempo perché è stato preso Pogba perché erano i dubbi che aveva l'anno scorso e sono i dubbi che ho adesso non rinnovo di bala perché voglio cercare di fare un nuovo progetto tecnico magari basato sugli esterni offensivi quindi un trequartista nella seconda punta non mi serve più e quello spazio salariale lo vado a investire da un'altra parte attenzione di bala e Pogba sono due giocatori tendenti agli infortuni quindi magari dici posso fare il rischio ma soltanto su uno e allora a maggior ragione mi fa venire rabbia pensare che oggi dopo una stagione in cui praticamente abbiamo giocato con il 3-5-2 senza gli esterni offensivi uno come di bala avrebbe fatto non comodo di più poi è vero che c'è stato di maria io devo anche dirvi la verità nel complesso da Di Maria nella sua avventura all'eventus mi aspettavo qualcosina in più cioè proprio devo essere onesto con voi mi aspettavo qualcosina in più perché c'è stato quel periodo post mondiale meraviglioso di Di Maria partita di Napoli partita col Nantes partita col Friburgo e poi secondo me Di Maria si è sconfiato tanto sia per condizione atletica secondo me anche per motivazioni quindi purtroppo da Di Maria lo dico da innamoratissimo di Di Maria mi aspettavo qualcosina in più e invece Pogba è arrivato si è fatto male che poi anche qui apre una nuova discussione oltre al discorso che facevamo prima sul progetto cioè dove sta andando la Juventus dove voleva andare l'anno scorso dove vuole andare quest'anno perché questo rimane il discorso madre e cercheremo di fare due parole alla fine del video però quando l'anno scorso si decide di non rinnovare Di Bala che è una scelta sacrosanta condivisibile ci può stare io l'avrei rinnovato ma capisco che non rinnovarlo possa avere dei senso va bene si fa un passo avanti il giocatore di 30 anni però poi con lo spazio salariale allora lo metti su Pogba va bene anche qua vuoi spostare il ruolo per quel va benissimo però io capisco che il tifoso possa fare questi ragionamenti ma quando Pogba arriva al J Medical o comunque inizia la trattoria per Pogba ma gli esami strumentali che sono stati eseguiti non hanno evidenziato delle problematiche cioè la cosa che mi viene da domandarmi sia per l'anno che sta vivendo Pogba sia per la titolarità di Pogba dell'altra sera abbiamo un centro medico all'avanguardia abbiamo il non plus ultra dei medici sportivi abbiamo delle strutture meravigliose abbiamo dei fisioterapisti che ce li inviden dappertutto per quanto riguarda i nomi anche nel back on track avevamo visto che c'era tutta questa organizzazione incredibile e quando si prende Pogba non si nota che ci sono dei problemi di nessun tipo cioè è tutto perfetto l'analisi Pogba i numeri Pogba sono in linea con tutti quelli degli altri calcatori posso anche crederci magari poi è stata la sfortuna in quel momento lì dopo è andata bene poi dopo invece non stava bene va bene Pogba viene da questa annata qui ancora una volta questi report medici vanno a evidenziare che Pogba sta così bene da poter giocare titolare da poter in sera aumentare così tanto i minuti sul finale di stagione tanto che anche qui magari un'altra coincidenza magari il report parta da bambini però a me sembra di essere di fronte a una situazione in cui francamente alla Juventus diventa inaccettabile tutto questa roba perché dici errare umano ci sta l'errore lo fanno tutti è perseverare che è diabolico è perseverare che diventa diabolico cioè è un errore è un altro errore è un altro errore è un altro errore è un altro errore magari se sono anche dei microerrori poi formano una sorta di situazione molto problematica che è quella che sta vivendo la Juventus oggi parlavamo del progetto prima no l'anno scorso ci permettavamo di fare ancora questi ragionamenti da grande squadra da squadra di alto livello che può spendere i soldi può offrire contratti e robe del genere oggi non possiamo più farlo oggi questa cosa non esiste più oggi non c'è più la possibilità di se l'anno scorso eravamo qui a pensare a dire sì quegli 8 milioni che vuole Pogba 7 milioni gli li diamo sì quei 7-8 milioni che vuole gli li diamo sì andiamo a trattare con Di Maria sì va bene andiamo a prendere questo quell'altro capite bene che se l'anno scorso la Juventus era una cosa quest'anno la Juventus è un'altra cosa se a marzo del 2022 parlavamo di 7-8-9-10 milioni di euro oggi parliamo diciamo anche se ci qualifichiamo in Champions League pensiamoci bene prima di rinnovare Rabiot ha delle cifre molto alte perché nonostante il rendimento altissimo di questa stagione nonostante il supporto massimo che ha avuto in campo e meno male che c'è stato Rabiot in questa stagione l'anno prossimo dove ci vediamo qual è il progetto sportivo della Juve perché è la domanda che si eravamo fatti l'anno scorso qual è il progetto sportivo della Juve 4-3-3 ok non rinnovo di bala prendo Pogba non rinnovo di bala prendo Pogba però poi non giochi col 4-3-3 giochi col 3-5-2 è ancora qui sì va bene può capitare si può incastrare però è quello del discorso che facevamo prima una cosa può essere una coincidenza può essere uno sbaglio può essere un errore può essere quello che volete però poi li metti tutti insieme nel calderone inizi a vedere una situazione poco chiara quindi il progetto della Juventus sportivo oggi qual è punto di domanda risposta di Luca Toselli che è soggettiva personale non è la verità è la mia opinione la mia visione oggi non c'è oggi oggi 16 maggio alle ore 10.58 non c'è non c'è non c'è neanche il direttore sportivo addirittura esagero le ultime decisioni sportive le ha prese Arrivabene che non faceva il direttore sportivo il non rinnovo di Dybala sembra essere stata una volontà di Arrivabene di tagliare l'arrivo di Pogba Arrivabene ci ha detto a un certo punto mi è venuto da dire perché non riportiamo Pogba a Torino magari con la volontà condivisa l'allenatore anzi mi auguro immagino spero perché da qualche parte poi qualcuno che debba decidere di sport ci deve essere e quindi il mercato che è stato fatto l'anno scorso Pogba perché era il nome l'aveva già allenato Di Maria perché serviva quel giocatore Paredes perché serviva il mediano Kostic perché serviva all'esterno Milik perché serviva molto su misura di Allegri molto su misura di Allegri con dei calciatori che aveva chiesto poi sono arrivati sono stati ottenuti il non rinnovo di Bernardeschi il non rinnovo di Dybala il fatto che sia arrivato Bremer al posto di De Litt perché era arrivata un'offerta buona e comunque De Litt non si era inserito il rinnovo di De Sciglio queste sono tutte secondo me state scelte che in quel momento lì era giusto fare non perché fossero giuste ma perché perché se ti metti in testa che il progetto è capitanato da Massimiliano Allegri allora è giusto che Massimiliano Allegri abbia carta bianca sul mercato che venga fatto il mercato adeguato per l'allenatore secondo le sue richieste perché pensa che poi però prege difetti se si fa bene benissimo è stato fatto il mercato per l'allenatore l'allenatore ha sfruttato il mercato siamo tutti contenti se va male come sta andando male adesso e ovviamente poi c'è la finale di Europa League ma l'altro giorno sentivo Buffon gli ho detto ah ma la Juve può vincere l'Europa League Buffon diceva il mio cruccio non è mica mai stata l'Europa League poi se la vinco non ci sputo sopra la Juventus aveva sempre avuto quando ci giocavo io altri interessi non era l'Europa League non potrà mai essere per la Juventus l'Europa League l'obiettivo poi io sono il primo a dire cazzo se la vinco che meraviglia fantastico bellissimo però poi se vinco l'Europa League non è che dico cazzo la stagione adesso è salva è stata una stagione bellissima abbia risolto tutti i problemi no perché io l'Europa League manco la dovevo giocare della Juventus ci sono arrivato perché in Champions ho fatto la figura più brutta nella storia della Juventus quindi benissimo vincere l'Europa League però la stagione ragazzi stagione mai rovinata quindi qual è il progetto sportivo della Juve perché a me viene da pensare che oggi e torniamo sempre al discorso che qualcuno continua a chiedere ma secondo te Allegri ma non è che hai cambiato secondo me Allegri non ha destino sulla panchina della Juventus non ha destino perché i discorsi che facciamo a marzo a marzo l'anno scorso ma rinnova Di Bala ma arriva Pogba ma arriva Sergei Milink oggi non le puoi fare oggi sei qua che dici con Di Maria ci stiamo provando perché magari anche se non fai l'Europa Rabiot che cosa gli offre oggi Rabiot poco e niente quelli che devono arrivare non si leggono nomi non si leggono nomi sulla Juventus in entrata si legge il rinnovo di Alexandro il non rinnovo di quadrado non si legga nomi in entrata l'unico nome di cui si parla in entrata per l'avventus è Frattesi che per l'amore del signore bellissimo giocatore però io oggi non mi vedo nella condizione di andare a spendere 30 milioni di euro su Frattesi ma non perché Frattesi tanto perché trasferimenti interni al campionato italiano io per un pochino vorrei evitarli per due motivi uno lo sappiamo e l'altro perché poi la Juve in questi anni tirati fuori un bel po' di soldini alla fine magari anche tenendo in ballo la baracca e guardate che cosa è successo quindi io per un pochino eviterei di far girare denaro all'interno del circuito italiano inizierei ad andare a comprare all'estero e seconda battuta perché comunque tu dei prospetti interessanti li hai che sono i Miretti gli Ealing i Barrenecea i Sule io non nomino Fagioli è più vecchio di questi di due anni e Fagioli ormai è un titolare della Juve un giocatore fatto finito un giocatore completo un giocatore che non può essere messo in quel gruppo lì quegli altri sono giocatori che bene o male hanno poche presenze con la Juve o comunque poca esperienza sono dei 2003 quindi hanno 20 anni li metto ancora però questi giocatori l'anno prossimo sono quelli che dovrebbero essere quelli che sono stati i Fagioli quest'anno e ne arriveranno altri ce ne saranno altri in under o torneranno alla base altri come Rovella e quindi tutti quei giocatori che torneranno Artur Zaccaria McKennie Kuluseschi io credo che ci sarà un cambio in panchina perché noi dicevamo prima se l'anno scorso facciamo i nomi dei rinnovi i 50 milioni per il cartellino e i 10 milioni per lo stipendio oggi siamo qui che diciamo la situazione è questa spendere non se ne parla bisogna valorizzare e attenzione io sono sempre stato uno che ve l'ha sempre detto per me Allegri non odie i giovani perché secondo me Allegri ha sempre fatto giocare i giovani ho fatto un elenco una volta un video in cui spiegavo questa cosa un conto però è far giocare un conto è valorizzare perché Allegri l'ho sempre visto buttare far gli esordi ai ragazzi poi se venite a dirmi sì però la valorizzazione del ragazzo quindi spiegargli che deve fare così cercare quello non fa per Allegri non è quello per cui Allegri è conosciuto e probabilmente non sarà mai quello perché uno che per anni fa una carriera del genere d'allenatore non ce l'ha mai avuto non ce l'avrà adesso lascia molta libertà e quindi la libertà per il giovane non è che sia proprio informazione nel cercare di migliorare non fa parte di Allegri con la roba lì e oggi è esattamente quello che serve alla Juve perché piuttosto che andare a spendere ancora i 30 milioni per il cartellino del giocatore del Sassuolo di turno c'è Rovella c'è Fagioli c'è Miretti non riscatti Paredes c'è Locatelli in qualche modo te la aggiusti poi magari vai a fare un colpo sì un colpo lo puoi andare a fare ma c'è per forza di cose andare a prendere Frattesi lo Sassuolo ma ripeto a me piace tantissimo Frattesi sarebbe bellissimo averlo per oggi vado a prenderne un altro vado a prenderne un altro e metto in panchino l'allenatore che con quell'altro che ho pagato 10 milioni in meno magari con un sistema di scouting magari scelto dal direttore sportivo che è il grande punto di domanda della situazione perché finché non arriva giuntoli non puoi buttare giù le linee guida per quella che sarà la prossima stagione serve ricominciare dal basso perché noi negli ultimi anni abbiamo sempre lavorato dall'alto c'è una piramide c'è l'alto e c'è il basso noi dobbiamo ricominciare dallo sport perché in questi ultimi anni di Juventus lo sport c'è stato ma molto continuativo all'interno di quello che avveniva fuori traduco il Cristiano Ronaldo che si era fatto il nome a Real Madrid arriva la Juventus e cerca di portare avanti il suo nome il Gonzali Guain che si era consacrato a Napoli all'eva la Juventus cercando di portare avanti con la roba lì il Douglas Costa che aveva fatto il Federico Bernardeschi che si era messo in luce alla Fiorentina e viene alla Juventus il Federico Chiesa che si era messo in luce alla Fiorentina e viene alla Juventus ecco io adesso credo che sia necessità ma non volontà cioè la volontà indubbiamente ma la necessità che si arriva a dire Nicolò Fagioli che dopo un anno alla Cremonese si è consacrato alla Juve Rovella che dopo un anno al Monza si è consacrato alla Juve Eiling Junior che è stato trovato dagli scout si è consacrato alla Juve Huizen che è arrivato all'Anix Gen poi è arrivato in prima squadra è diventato un giocatore a Juve queste sono le cose che oggi deve fare la Juve ma non per ripeto non per volontà per necessità per necessità perché si è arrivati a un punto di non ritorno in cui soldi pochi contratti elevati ce ne sono e ce ne sono anche giocatori come Pogba che in questo momento è distantissimo dagli standard di atleta e quindi se l'anno scorso potevano fare determinati ragionamenti se l'anno scorso c'era quel tipo di progetto sportivo in atto è cambiato il mondo è cambiato il mondo in un anno in un anno è cambiato il mondo e non si può più ragionare su questi binari o almeno si può però se oggi ragioni su questi binari con la situazione sportiva della Juventus con la situazione economica della Juventus e soprattutto con il mondo del calcio che negli ultimi due anni ti ha dimostrato che in Italia è più facile vincere con le idee piuttosto che con i nomi allora forse stai facendo un discorso e ragionamento abbastanza anacronistico fatemi sapere un po' la vostra qui sotto nei commenti e noi ci vediamo nel pomeriggio dovesse uscire qualcosa di nuovo grazie a tutti